no staci sopra frizione stai fermo col pedale che lui lo rilascia stiamo in moto prima che scalda un po' appena senti che attacca tu stai fermo dai tiriamo via i cavi friziona io i cavi aspetta il termo dietro si scalda un po' vai vai david si io non ne ho far niente reze ah stiamo in reze si scalda un po' un po' Oh! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.